Ogni compagnia ha delle regole leggermente diverse ma tendenzialmente tutte le compagnie presentano dei corner, delle aree in cui è possibile trovare acqua e altre bibite in modo completamente gratuito 24 ore su 24. Si tratta ovviamente di acqua depurata e non acqua in bottiglia con cui potremo andare a riempire dei bicchieri e magari andarla a rinfrescare volendo ulteriormente con del ghiaccio mentre invece alcune compagnie come ad esempio Royal Caribbean ci permettono di trovare sempre in questi dock anche della limonata e altre bibite soprattutto in concomitanza con l'apertura della zona buffet. A colazione invece avremo a disposizione sempre compresi nel prezzo il tè, il caffè americano, il latte caldo e latte freddo, ovviamente avremo a disposizione bustine di tè, bustine per la cioccolata calda mentre invece tutto quello che sarà caffè, cappuccino piuttosto che bibite, succhi di frutta, aperitivi e altri alcolici saranno ovviamente a pagamento.